Qual è il tuo personaggio preferito? Va bene, sai che facciamo? Io lo metto qui e tu lo prendi quando vuoi. Stai andando benissimo, piccolo. Ah, Nick, hai visto la mia palla da tennis da qualche parte? Sai, quello è invisibile. Ah, no, non l'ho vista. Ah, eccola qui. Mi piace giocarci. Faccio di nuovo. Nick, prova a fare canestro? Sì. È così che giochi tu, eh? Emmett, prendila. Dove l'hai trovata? Ah, quella l'ho presa da Target. Era in offerta, puoi tenerla se vuoi. Ok. Bene, campione. Senti, lo so che è difficile, ma... se ci racconti quello che hai visto sulla navetta, ci saresti di grande aiuto. Ma se non ricordi niente, non ha importanza, tranquillo. Ho visto un alieno. Accidenti. Uno piccolo o uno grande? Uno piccolo. Senti, lo so che hauto. Senti, lo so che c'è. E io c'è. Non lo so. E io c'è. E io c'è.